buongiorno a tutti e benvenuti col primo appuntamento con l'online ma cerchiamo una battita, allora affronta, ok, vatti contro il 9-6, no, e pam parte l'incontro perfetto andiamo contro questo qua che si sfonderà le chiappe, vabbè ha vinto 41 volte, accetto e ha perso 89, probabilità vittoria 1-6, perfetto scontro Takeda contro Reptile, col costume classico, ma perché sono di là? ma perché sono di là, cribbione, aia, oh, perché non mi dai pugni? oh, perché non tira i cazzotti? oh, hai rotto il cazzo, porco Giuda, guarda che non tira i pugni oh, vabbè, non ha tirato un pugno ti paravi, basta, affanculo, vabbè, e che cacchio, porco Giuda, se in gomigio dopo guardate sfondo le chiappe in una maniera assoluta sicuramente vado a perdere adesso mi fa la X-Ray, ah ma ce l'ho io! sono un coglione! e vaffanculo ultra bio azzardo dei miei coglioni toh anche se io ripeto sempre non devono avere le osse i serpenti perché non ce le hanno, cioè bene, abbiamo trovato gli spammoni di merda perfetto benissimo toh, coglione bastardo allora? oh oh ah, o così perfetto prima partita comunque non è andata male e adesso ce la facciamo proprio che n'altra oddio ha preso Ermac quindi ci sfonderà le chiappe ah ma potevo scegliere anch'io ma vaffanculo fa casuale casualeggia ah, ok campo profughi perfetto shoot 1-6-0-0-4 versus me ecco, io non capisco una cosa, né? perché io non la capisco perché io devo essere sempre di là no, ma sono un coglione ho preso la variante ho preso la variante di coso con con la spada ma vaffanculo eh, non so bono con la spada, eh non so bono poi beh, questi pezzacci di merda vabbè, non mi entrano le mosse ok, perfetto c'è un pelo di lag se volendo si gioca anche bene però eccoci seconda sconfitta presa bella fresca anche e bisogna farsi un po' l'abitudine perché la risposta dei tasti è un po' quella che è però caggia fa che che vuoi va top esso di mierda belzebu tim culo anche a tu diciamo cose a random porco eh vabbè l'avevo preso anche gli spammoni perfetto almeno abila pietà di farmi la fatality oh almeno quella molto bella questa ecco mi ha spaccato la bandana perfetto c'è un pezzo di merda stai contento sei felice salsiccia 4 euro adesso è un pezzo di merda a manco mi ha chiesto il permesso niente va buono ho te sfondo le gap non mi ha chiesto niente oh per fortuna che per una volta sono io di là almeno si spera fragello porca miseria ma dovrò quando mi viene in mente prima che ho sbagliato a a scegliere la variante vabbè che avevi perso sicuramente però avevi fatto più danno allora io faccio sempre casuale dopo tu scegli quello che vuoi amico foresta morta chi sarà morto oh ma c'hanno tutti fretta porca miseria ma quindi adesso io sto a giocare con la mia connessione no perché se sono in casa io almeno non dovrò informarmi su sta cosa perché si allora tu inizia a spammare che io ti spacco la fazza hai capito tonic sullo 26 molto arbitrariamente rotto in sullo eh si mi sa di sia che come si dice che cacchio di mosso era quella e mo capisco perché prima non mi entravano i golpi eh giocavo in trasferta ah ok mi ha fatto la x-ray giocavo in trasferta e non si riusciva a fare niente quindi bisogna giocare sempre in casa perfetto sembra un po' quella di Raiden to mi sa che non sapeva che la si fa in calcio quella di di come cazzo si chiama taghera tagha sminshi solange dopo la terza volta che mi dai il calcio hai anche svangato l'osso eh mica mica porco zuda molto bella pezzo di fango porca miseria i torcinelli che cacchio di mossa è quella è bestiality perché non iniziano a andare dentro i colpi eccoci era iniziata troppo bene per finire bene speriamo che comunque il video i tentativi vi siano piaciuti vi rimando alla prochaine partito basta ah ti sta bene niente comunque questo ultimo tentativo è anche andato meglio dell'altro dei precedenti niente ragazzi spero che vi sia piaciuto questo se mai dato che le partite online ci sono si gioca anche diciamo abbastanza bene soprattutto se si è il primo giocatore che credo sia quello che ha anche il vantaggio della connessione quindi adesso io vado a vedere una cosa e poi ci salutiamo perfetto ragazzi allora d'ora in poi finché ci saranno le torri viventi quelle tipo di Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 55 porterò quelle torri viventi e al posto delle torri viventi normali anche perché come vedete là c'è la torri viventi di Tania che a me mi fa schifo come personaggio porterò le sfide online quindi ragazzi spero che vi sia piaciuto questo tentativo era la prima volta che giocavo online non sapevo neanche bene come era il fatto delle connessioni eccetera però si gioca bene bisogna comunque essere almeno dico io quelli con il primo player ovvero giocare in casa spero che vi sia piaciuto se volete iscrivetevi pure e vi rimando al prossimo video di Mortal Kombat buia grazie a tutti grazie a tutti